Ladies and gentlemen, a nome della redazione e di tutti coloro che lavorano a milanocityrumors.it ho il piacere di augurarvi buone feste e felice anno nuovo. È una pagina assolutamente interessante dove la Milano viene portata giornalmente al vostro cospetto. Informazioni utilissime, non solo la cronica, non solo lo sport, ma soprattutto gli eventi culturali. E tra questi eventi culturali c'è anche la mia modestissima rubrica intitolata Sentieri di celluloide Milano nel cinema. Un percorso fantastico, tutti i film, e pensate sono più di 1800 pellicole girate nel capoluogo Lombardo, con il dietro le quinte, tutti segreti della realizzazione e soprattutto per ricordare i grandi nomi della storia del cinema. A bene arrivederci, buone feste e felice anno nuovo.